Il non intervento è una scelta, ma è una scelta molto pesante sull'economia della community, perché se voi scegliete di non intervenire, il giorno che succede quello che non deve succedere, ovvero che arriva un utente e dice però il Corriere l'ha raccontata così questa notizia, voi state mentendo, il giorno che intervenite, dopo che non avete curato la community, vi massacrano, perché siete quello che dall'alto ha dato delle informazioni, se ne è sempre fregato di fare community e adesso che ha bisogno per i suoi scopi personali di farti vedere più figo del competitors, risponde, è una scelta che io non consiglio, è una scelta pesantissima, quindi io personalmente vi consiglio in qualche modo di avere sempre una strategia.